Sviluppo delle competenze delle piccole e medie imprese nei processi di internazionalizzazione, sarà questo il tema centro dell'iniziativa in programma per il prossimo 14 novembre alla Camera di Commercio di Arezzo. Noi storicamente abbiamo accompagnato tante aziende a rettine in tante fiere in giro per il mondo. Questa è un'attività che come Camera di Commercio di Arezzo abbiamo fatto negli anni, adesso con la nuova riforma delle Camere di Commercio questa attività non la potremo più fare perché è stata delegata all'Ice, all'Istituto Commercio Internazionale con l'estero. Alle Camere di Commercio è stata affidata questa competenza di formare gli imprenditori, quindi di dedicarsi alla formazione per preparare tutte le piccole e medie imprese a conoscere meglio i mercati internazionali e ad affrontare meglio le sfide dell'internazionalizzazione. Faccio presente che complessivamente abbiamo un 15-20% di imprese anche all'interno del nostro territorio che sono caratterizzate sia da prodotti ma anche da una struttura che gli consentirebbe di affrontare i mercati esteri. Questo significa per l'impresa maggiore fatturato e maggiore occupazione. Il workshop organizzato da Arezzo Sviluppo vede la collaborazione con l'Università di Siena, il Polo Universitario Arettino e l'Ordine dei Dottori Commercialisti. Internazionalizzare l'impresa non vuol dire soltanto vendere all'estero ma vuol dire strutturare l'azienda in modo tale che sia capace di affrontare tutta una serie di problematiche che si presentano in questi processi commerciali. Potremmo discutere con gli imprenditori di come conoscere i mercati emergenti, quindi si parla per esempio di schede paese, quindi di entrare nel dettaglio delle particolarità culturali ed economiche dei paesi nei quali si vuole esportare. Si parlerà di come sviluppare competenze anche linguistiche che ci permettono di andare all'estero con maggiore efficacia e si parlerà anche di come diventare dei leader internazionali. Noi siamo sempre al fianco delle aziende e in questa fase la formazione verso gli imprenditori, per sensibilizzarli, credo che sia quanto mai importante.